I primi turisti erano irlandesi, due i nirandesi, e lo studiare o fredes, non ho il Con grande soddisfazione oggi abbiamo aperto il nuovo punto infopoint sul nostro litorale qui a Tirrenia. Il nostro litorale è strategico per quanto riguarda la nostra offerta balneare. Il nuovo infopoint è in stretto collegamento con quello che abbiamo aperto nuovamente all'interno della piazza dei Miracoli e con quello sotto il comune a Palazzo Gambacorti. Sarà sicuramente un punto di incontro fondamentale per i nostri ospiti che dimostra anche come nei tempi Pisa sia ripartita su tutto quanto il suo territorio. Una novità importante è il fatto che grazie ad una piattaforma che verrà messa a disposizione gratuitamente per gli albergatori fino al 31 dicembre sarà possibile prenotare l'Istim Unit attraverso i nostri punti di informazione.